ciao a tutti un nuovo video un nuovo video un po particolare ok vi volevo far vedere un'app non è sponsorizzato io non ci guadagno assolutamente niente però vi faccio vedere io l'ho scaricata è gratuita non potete pagare niente dove conviene offerte e negozi a questa con questo bellissimo pallino rosso la andate ad aprire io mi volevo far vedere due negozi in particolare ti vota che adorazione lo fa vedere il volantino che potete vedere tutti i volantini qui di tigota scale domenica quindi non so se è questa oggi o domenica prossima non lo so comunque volevo far vedere il volantino questo qui c'è quello dei premi schiacciano che si apre e lo potete sfogliare qui sfogliato tutto a 0,99 abbiamo l'acce gentile lo spicco e spanto di gentilmente uso smac sciogli calcare cifre del detergente spicco e spanto di cingelle cifre del testivo pallimenti cifre del detergente quando è il tavoletto di cing vime detergente solite di cibollane colorati grella che fa colore quando è un pinza e buccato fabuloso e ammorbidente shantekle adesivo per i piatti finisce scelta di sale per le vastaviglie bama il tappeto ravello rettangolare tutti i prodotti detersivi alcuni anche che costano abbastanza a 0,99 se vi può interessare scorriamo se ne sono altri più prodotti per la casa ad esempio il domo pack carta forno, carta cucina, acqua, sacchetti freezer, peter pan plast, sacchetti sacchetti, spugne, fazzoletti, carta cucina, tovaiolo di carta, sacchetti per i rifiuti, le spugne anche alcuni alimenti per gli animali e addirittura gli assorbenti poi qui passiamo già a profumare la casa, proteggi e profuma, candele, profuma cassetti di odoranti ambienti, di odoranti cassetti, di odoranti auto la spazzola con l'adesiva per togliere i capelli, i peli eccetera profumatore per la casa, post it, matite, penne per il back to school, solette scarpe e cambaletti di nuovanti ancora abbiamo in offerta sempre a 0,99 più prodotti per la persona, gel, bagno schiuma, salviette intimi, sciampi, crema cappelli, bagno schiuma salviette, petegente intimo, sapone liquido, mille usi salviette poi abbiamo anche salviette baby, dischetti di cotone, equilibra le saponette molto carine a 0,99 quindi un grosso risparmio cera depilatoria quando è, dischetti di cotone quando è scab corpo, schiuma da barba, cotton fioc eccetera poi abbiamo il labello in offerta, salviette baby, le maschere viso della nevea, molto interessante salviette struccanti ciao, stick labbra, bastoncini di cotoneve, maschera viso, gel, my mask, menta denti colluttori molto molto interessante poi qui abbiamo sempre altre offerte ma non a 0,99 la dentask che ha tutta una linea per i denti, colluttori, dentifrici, filante dentale, testine, spazzolini eccetera poi abbiamo le promozioni, dash, io, pod, tu, venus, pronte in 5 minuti, gillette, olas, panten poi 28 e 29 settembre con una spesa minima di 15 euro a sole 9,99 l'accappatoio in microfibra interessante da 17 al 30 settembre in omaggio 30 pacchetti di fazzoletti con una spesa minima di 50 euro poi qui altri prodotti per la casa detesivo a sole a 0,85 le tubs lavastoviglie a 3,99 lo svelto a 1,74 si, tutti i prodotti per la casa senza che ve li sto a elencare tutti tutti ad ottimo prezzo secondo me poi, qui abbiamo qualche offerta da Amokina acquistando almeno 5 euro di prodotti Amokina poi vince una delle 500 carti gotta in palio poi il pulito si fa in 3 si può vincere subito una delle 500 carti gotta da 25 euro molto interessante sempre su prodotti per la casa potete vincere le card da 25 euro poi vince una Citroen C1 Airscape acquistando prodotti ACE non so se la vedete molto interessante per chi come me non ha la macchina poi acquistando di prodotti GLAD subito in omaggio uno spray Bamboo Garden qui abbiamo altri prodotti inferta che danno punti per la carta fedeltà se voi la avete che sono questi perfumatori per la casa tutte cose molto carine candele vedete anche le ciabatte se volete fare lo zoom ok altri prodotti in offerta come buste salva spazio mollette insetticida custode per abiti tovaglioli guanti eh molti prodotti in offerta a Vileda molto molto interessante perché sono sempre molto cari Vileda poi con Lines acquistando due prodotti Lines puoi vincere un fond professionale 4.0 Ionic della Babyliss molto interessante acquistando due pacche a scelta tra Huggies Ultra Comfort extra care o panna di mutandina prova a vincere una delle 500 gift card da 25 euro per chi magari è mamma come la mia diciamo amica amica di youtube la mia amica iridescente qui su youtube il canale si chiama iridescente che lei è una bimba carinissima per lei magari può essere interessante per chi di voi è mamma non sono mamma poi acquistando due prodotti colgate puoi vincere un Smart TV Curvo SS UHD Samsung la settimana questo qui puoi vincere Gam acquista due prodotti della linea Gam e subito in omaggio uno spazioio in un formato viaggio sempre per la cura dei la cura dei denti acquista un prodotto della linea Vigio Aloe Equilibria sul pietre per l'identificio triplazione mini taglia sto provando anche io qualche prodotto di Equilibria però corpo proverò anche quelli di Vigio poi acquistando i prodotti acqua alle roi sul pietre per te il tonico vintage caccarola scusate poi acquista un prodotto Aloe Vigio in omaggio non lo mi di shampoo va bene poi abbiamo i prodotti della Nivea per la skin care prodotti dei gare di skin care trattamento viso assorti di L'Oreal ve lo segnalo lo segnalo perché ci sono gli scrub nuovi le maschere nuove a 6,95 quando ne costano 9,95 ve lo segnalo poi abbiamo i spazzoli in offerta rasoi olio di mandorle sese depilatorie alcuni prodotti trattamento viso dell'Oreal 12,99 BB cream di Garnier 4,99 Garnier Skin Active 3,99 molto interessante poi acquista una maschera con un trattamento gliss subito per te un shampoo gliss può essere credo di sì non so quanto è di lungo il video poi compro favore di Alpeci Sport e vince un abbonamento al Virgin bene acquista una colorazione professionale colore subito regalo la maschera colore vivo questa è molto carina della Bio Point ve lo segnalo sono quelli in tubetti professionali poi Osa Creativity gioco con il colore e crea il tuo look è un varia colorista i frutti Air Food sono molto carini poi i sciampi gli adoranti eccetera acquistato prodotti manetti e roberts si regalano un mini dolce olio neutro roberts vi segnalo i tesori d'oriente a 2,99 molto buoni se se mi piaciuti i tesori d'oriente Sally Hansen un'altra segnalazione a 7,90 invece che 9,90 un po' meno tutti i prodotti per la cura delle unghie anche i mavera rimangono sempre troppo alti poi abbiamo tutto il Max Factor non so riesco a farvi vedere un po' meglio rossetti matite fondotinta mascara tutto in promozione sono tutti sono tutti Max Factor ne ho parecchio Maybelline L'Oreal Rimmel Pupa Deborah tutti molto Marche che magari vi piacciono mi piacciono io soprattutto mi piace molto vedo morrendo ok poi settembre perfumi di sconti termina 30% 50 40% sui profumi credo sia finito il volantino credo di sì abbiamo visto tutto questo sono 20 pagine quindi credo di sì il video sarà lunghissimo ok questo è l'attività vi volevo far vedere i per shop ok andiamo a cercarlo scade sabato quindi quello di sabato che viene sono ancora in tempo ve lo metto e almeno se qualcuno è interessata può andare a vedere i per shop inizia con questa bella paginetta questo è molto buono segnalo che sia quella lavatrice molto carino poi qui abbiamo prodotti per la persona ha 1,72 0,99 tutti meno di 3 euro tutti prodotti per la persona senza che vede il link vedete così in questa pagina qui azetta dentificio completo a 1,44 molto buono poi l'acqua miccellaria è la cleanians che è quella che uso io 2,98 questa qui bella consiglio tantissimo non mi fa arrossare ok poi qui già passiamo prodotti per la persona per capelli shampoo balsami balsami compra due prodotti testa nera partecipa ogni giorno la sezione di fantastici premi philips questo qua è una spazzola che fa la piega carino poi qui altri prodotti per la persona una rasoi gemar cosa ho fatto non lo so leo crema cose un po' random sì non sono divisi come quelle di tigota poi tutto a tema colgate che è una marca molto buona a prezzi direi ottimi se vi può interessare qui leo crema a 1,99 poi aggis pannolini e felce azzurra mia nonna usava sempre felce azzurra ora vive con me non la usa più beh usava molto qui abbiamo tutto a tema pannolini non so se vi può interessare io cerco di farvele vedere più o meno tutte ah qui c'è una cosa molto interessante oltre che il mio giorno Clinians ha presi stracciati c'è la Royal Beauty che ha tutte maschere molto carine io ho già provato una che ho piaciuto molto queste maschere qui se riesco questa che sono quelle maschera viso effetto gel molto carine maschera oro quello che voglio prendere per il contorno occhi questa che ho preso io per le mani per i piedi e queste che sia un po' più di prodotto però le segnalo perché sono molto molto valide Royal Beauty quindi facendo tutte le necessarie trucco molto molto carine poi qui abbiamo qualche profumo in offerta e la mia amata omia lo faccio vedere così lo faccio vedere così profumi in offerta e la mia adorata omia che io ho legente viso scrub viso e crema viso manca solo da sereo tutto però ve la sta a consiglio se siete amati del bio delle cose naturali analergiche molto molto consigliato oh qui c'è un altro amore questo volantino è fantastico Astra Makeup e Deborah Formula Pura altre che mi piacciono tanto tutti i prodotti Astra mi piacciono molto e costano veramente poco sono molto validi ve li consiglio soprattutto il correttore il mascara matite occhi matite labbra anche quello per le sopracciglia di questo io ho provato solo i rossetti molto carini l'eyeliner un po' meno e la mattina era molto valida qui abbiamo sempre per quanto guarda le fidelity card quindi fatevi una fidelity mi raccomando con la raccolta punti alti raccolta punti molto carino qui c'è la sezione prima e dove l'attività non c'era ecco qua i miei potatini canini gattini belli 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 vinci e doniamo ogni giorno una fornitura di prodotti per il tuo cane vinci ogni giorno una fornitura di prodotti per il tuo cane o gatto e doniamo anni di prevenzione ai nonni che carino poi qui abbiamo prodotti per la casa a poco prezzo per la pulizia della casa se come me siete amanti delle pulizie altri prodotti casa un po' random tutti a prezzi stracciati direi molto molto stracciati poi qui i buoni nel pulito da 16 settembre a 16 ottobre acquista dei due prodotti spuma di champagne conserva scantino e avrai e vai su poi vince subito 100 carne di buoni acquisto da 20 euro e sotto nel finale due carne di buoni acquisto da 250 euro qui ci sono le promozioni questo con scuma di champagne e questo con omino bianco li fermo ci vedranno adesso poi altri prodotti casa e prodotti soli in offerta con annesso concorso finish vernell e glide quindi questa marca abbastanza rinomante qui c'è tutti i punti vendita in tutta Italia ma questa è a carina vi farò vedere la ricetta a 29 settembre a questa 15 euro di prodotti scelta tra i marchi Chanteclair ricevi subito sulla tua il prosopica uno sconto di 5 euro molto interessante dal 17 al 21 settembre ogni comiceo di spese con un contributo di un anno e nottale potete portarvi a casa una popo squishy sono carine io quella con la panda comunque io volevo far vedere questo poi magari provvedere anche tipo supermercati però il primo video il primo video era questo spero vi sia piaciuto lasciate un like un commentino iscrivetevi al canale vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao